ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi volevo registrare un make up veloce il make up veloce perché intanto inizia a togliere gli occhiali oggi volevo vedere di registrare un po più video insomma siccome sono qui un po più di tempo volevo registrare un po di video allora intanto inizio allora inizio col presentarvi intanto i trucchi che utilizzerò loro utilizzerò questo primer rosato della essence poi utilizzerò questa matita della puro bio questa per le labbra che sta finendo e questo questo ombretto dell'avon extra lasting questa matita marrone per gli occhi e poi questo rossetto di e di maybelline della collezione in collaborazione con Kate Moss ok cominciamo appunto col primer inizierò col primer ve l'ho già detto questo sarà un make up veloce allora intanto scusatemi per i capelli vi giuro che li ho pettinati stamattina sembro comunque una scappata di casa con questi capelli e allora dicevo metto il primer un po' di qua un po' di qua un po' di qua così lo chiudo intanto vi volevo ricordare che avevo già detto questa cosa però perché si fosse iscritto poco tempo fa magari non lo so allora intanto vi volevo ricordare che ha deciso di fare praticamente il lunedì il mercoledì e il venerdì pubblico i video sul canale mentre il martedì e giovedì sono dedicati al blog quindi appariranno post sul blog pubblicherò post sul blog ecco e poi posso mettere il l'ombretto che anche questo è nel progetto smaltimento devo ammettere che comunque non l'ho usato molto poi vi volevo fare un aggiornamento sul progetto smaltimento cioè un aggiornamento non che anche un rivoluzionamento del progetto smaltimento però ecco ecco fatto ecco fatto perché questo ombretto sia di dimensioni piccole mi ricordo che ne avevo un altro che l'ho finito nel giro di tipo due settimane che forse questo colore non mi piace tanto però quello che ho preso l'altra volta non c'erò più quindi aspettiamo che si asciughi mi ho preso un altro aspettiamo che si asciughi così ci metto subito la matita però non è dei miei colori preferiti come sapete a me piace il verde eppure insomma mi piacciono i colori accesi a proposito ho pensato anche di fare un video su sui trucchi su nei trucchi i colori accesi un trucco pazzo insomma e allora mettere in cantiere anche quello scusate ma oggi c'è una struttura allora si dovrebbe essere asciugato scegli qua scegli qua anche e mettiamo la mattita mettiamo la mattita metto quella scura aspetta che quella scura è dall'altra parte però metto questa scura non no ma non ma non l'altra parte si non 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 e adesso passiamo subito alle labbra le labbra metto sempre questa mantita di porubio che sta cercando di portarla a termine ma penso che dopo che finisca la punta la butto direttamente se no poi diventa troppo piccola scusate oggi torna tutto l'altro ecco qua mi sa che alla fine di questo video mi tocca buttare vabbè comunque la rivedete nei prodotti finiti e adesso vado a mettere questo fantastico rossetto del Maybelline in colaborazione con Catmuss inca ecco fatto ecco fatto e anche questo trucco è molto essenziale molto veloce molto molto da tutti i giorni insomma allora questo è il trucco finito spero che questo trucco vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete mi piace e se invece è la prima volta che vedete un mio video e volete vederne degli altri iscrivetevi al mio canale e se volete invece commentare chiedermi un video in particolare oppure un video in particolare oppure qualche domanda un video in cui rispondo alle vostre domande un video qualsiasi insomma basta che me lo chiediate che io sarò lieta di rispondere alle vostre richieste se commentate io rispondo a tutti se invece volete far conoscere questo video questo trucco ai vostri conoscenti parenti amici così via potete anche condividerlo io vi saluto e vi aspetto al prossimo video ciao ciao